Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi parleremo di un filato già presente nella famiglia Tessiland, ma che fa un ritorno in grande stile. Parliamo dell'Eco Donny, un filato che è stato rinnovato e che si presenta come l'alleato perfetto per la realizzazione di quei progetti per il quale l'ideale è il tocco di colore, la brillantezza e anche l'utilizzo di un cotone un po' più spesso. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccolo qui il nostro Eco Donny, un gomitolo 100% cotone ecologico riciclato. Il suo peso è di 50 grammi per 60 metri. Vi consigliamo di utilizzare gli uncinetti dal 5 al 6, mentre per i ferri consigliamo dal 6 al numero 7. Per quanto riguarda invece le istruzioni per il lavaggio, questo filato prevede anche il lavaggio in lavatrice. In ogni caso vi consigliamo di effettuare i primi lavaggi sempre a mano, questo per permettere alla fibra di assestarsi e di non sformarsi. Per quanto riguarda invece la temperatura dell'acqua, vi consigliamo di non superare i 40 gradi. Per l'utilizzo di solventi invece è possibile l'utilizzo di tutti quelli più delicati, eccezione fatta per il tetracloretilene. Per quanto riguarda invece i consigli per l'asciugatura, vi consigliamo di rimuovere l'acqua in eccesso, trattandosi comunque di un filato abbastanza doppio, e di non utilizzare l'asciugatrice. Per quanto riguarda invece la stiratura, questo è possibile ad una temperatura che non superi i 200 gradi. Quella che abbiamo visto finora è la variante lilla, andiamo a scoprire tutte quelle disponibili. Eccoli qui, partiamo dal cipria, il nocciola, arrivando a colorazioni più tenue come il panna ed il beige. Passiamo ora alle colorazioni più vivaci della gamma, il viola, il fucsia, rosso e l'arancio. Passiamo ora alle sfumature del blu. Partiamo dal jeans, cielo, denim e blu. Ed infine passiamo ai colori basici, il nero e il bianco, a cui si aggiungono il colore perla ed un verde. Come abbiamo visto le colorazioni di questo filato sono davvero numerose, quindi non vi rimane che scegliere qual è la vostra preferita e realizzare il vostro progetto. Questo filato infatti si presta alla realizzazione di capi di abbigliamento, ma anche per il suo spessore, alla realizzazione di accessori. In particolare il grande privilegio di questo filato è quello di essere adatto alla realizzazione di capi adatti a tutte le stagioni. Questo perché la sua particolare composizione molecolare lo fa rientrare nei filati di caldo cotone. Questo permette alle codonni di sostituire i migliori filati in lana, ma allo stesso tempo si possono realizzare anche dei capi estivi e freschi. Altra caratteristica di questo prodotto ce la presenta proprio il suo nome, ECO Donny. Questa piccola parolina, ECO, ci fa pensare proprio alla sostenibilità dei processi di produzione adoperati per la realizzazione di questo filato. Infatti, filati come le codonni vengono creati a partire dagli scarti della realizzazione di capi di abbigliamento. Grazie ad un particolare procedimento produttivo vengono recuperati e trasformati in filati come le codonni, che mantengono i più alti standard di qualità e di efficienza. Detto questo, non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di attivare la campanella e iscrivervi al nostro canale. Vi ricordo inoltre di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, la pagina Meglio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Altesla News! Al prossimo Altesla News!